Ciao, sono Fabio e ti do il benvenuto in Valle Camonica. Ti presento il salame. Il salame di Valle Camonica ha origini antichissime. I segreti dell'arte norcina vengono tramandati da generazioni. La scelta delle parti migliori del maiale, la macinatura della carne che non deveva essere troppo fine, il tipo di budello, le spezie dosate, la legatura e la stagionatura rendono questo prodotto una vera eccellenza. Ancora oggi è un bene prezioso ed è abitudine accogliere gli ospiti offrendone una fetta, magari accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso. Il salame da noi lo si mangia anche cotto, ma sicuramente il modo migliore per gustarlo è sul tagliere insieme alla spongada. Non sai cos'è la spongada? Scoprilo all'interno di Valle Camonica in tavola. Non mi resta che augurarti buon appetito con la Valle Camonica in tavola. Grazie a tutti.